L'incidente è oggi, mercoledì 19 settembre, intorno alle 17, sulla strada provinciale 53 all'incrocio per il centro di Barone Canavese. Una donna ha perso il controllo della Fiat Grande Punto che stava guidando, finendo fuoristrada in mezzo al prato che costeggia la carreggiata adegiata su un fianco. Sul posto sono intervenuti il soccorso avanzato di Caluso, i vigili del fuoco di Ivrea che hanno girato la vettura e l'hanno messa in sicurezza e i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso per i rilievi. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita. Grazie.